Ecco l'oroscopo di mercoledì 13 ottobre. Ariete. Parole ed emozioni da controllare. Volete allontanarvi dal lavoro. Domani c'è qualcosa da rivedere col partner. Si attendono sviluppi. Toro. Amore favorevole. Attenzione alle spese. Domani amore in stand by. Un cambiamento sul lavoro è possibile. Gemelli. In amore ci vuole chiarezza. Riscatto sul lavoro. Domani divergenze sentimentali. Problema da risolvere. Cancro. Attenzione al partner. Bene le prospettive a breve termine. Domani meglio rimandare le polemiche inutili. Leone. C'è chi ricambia i sentimenti. Rinnovata la voglia di fare. Domani i single potranno guardarsi attorno. Periodo migliore per fare accordi sul lavoro. Vergine. Giornata tranquilla, ma non sapete come affrontare gli impegni. Domani potete fare pace con una persona. Bilancia. Luna opposta è giornata di forte stanchezza. Domani discussioni sentimentali. Potete rimandare un appuntamento. Scorpione. Luna favorevole, anche se la stanchezza si fa sentire. Domani problemi sentimentali. Rapporti professionali da rivedere. Sagittario. Favoriti gli incontri. Periodo di forte recupero. Domani situazione sentimentale interessante. Nuove opportunità sul lavoro. Capricorno. Difficile trovare l'equilibrio. Piccolo problema sul lavoro. Domani amore neutrale. Non perdete di vista le cose importanti. Acquario. Da intraprendere alcune nuove avventure. Domani tensioni sentimentali. Serata di recupero. Pesci. Migliora la situazione. Cambiano i riferimenti. Domani strappo in amore. Non è il periodo migliore sul lavoro.